Davvero stolti per natura tutti gli uomini che vivevano nell'ignoranza di Dio e dai beni visibili non riconobbero colui che è, non riconobbero l'artefice pur considerandone le opere. Ma o il fuoco o il vento l'aria sottile o la volta stellata o l'acqua impetuosa o le luci del cielo considerarono come dei reggitori del mondo. Se stupiti per la loro bellezza li hanno presi per dei persino quanto è superiore il loro signore perché li ha creati lo stesso autore della bellezza. Se sono colpiti dalla loro potenza e attività persino da ciò quanto è più potente colui che li ha formati. Difatti dalla grandezza e bellezza delle creature per analogia si conosce l'autore. Tuttavia per costoro leggero è il rimprovero perché essi forse si ingannano nella loro ricerca di Dio e nel volere trovarlo. Occupandosi delle sue opere compiono indagini ma si lasciano sedure dall'apparenza perché le cose vedute sono tanto belle. Neppure costoro però sono scusabili perché se tanto poterono sapere da scrutare l'universo come mai non ne hanno trovato più presto il creatore?